La città di Maranello qui all'opera Cervia Città Giardino, sempre con la sua Ferrari, che quest'anno però cambia. Sì, tanto per non essere banali abbiamo cambiato tema e abbiamo cercato di riproporre un angolo di un circuito automobilistico e come sfondo abbiamo riproposto una quinta di Monza e abbiamo messo una sagoma della nuova macchina che corre quest'anno tra l'altro con buoni risultati, la sagoma di Vettel e Raikkonen e poi verrà riproposta, visto i 60 anni dell'Unione Europea, una bandiera in ghiaia azzurra con tricolore sullo sfondo della Ferrari. Abbiamo giocato un po' sulle tonalità del grigio e del rosso, verrà completata con alcune fioriture rosse e basta e completata con della graniglia bianca e rossa.